eccoci qua belli siete buongiorno buongiorno a tutti bentornati sul canale qua dal vostro amico night nella casa del pane balù o ragazzi buon mercoledì a tutti e buon supercoppa italiana a tutti perché stasera finale di supercoppa italiana tra inter e juventus che si giocherà san siro parleremo di quello ragazzi c'è da dire anche due cose sulle parole di chiellini dette ieri in conferenza stampa per quanto riguarda le ammunizioni le espulsioni insomma non ha tutti i torti secondo me su quel ragionamento lì siamo di vigilia noi milanisti ragazzi domani si gioca a milan genova perciò siamo di vigilia non la nostra coppettina ce la giochiamo anche noi domani perciò bene parleremo anche di questo eventualmente le possibili formazioni chi potrà giocare chi no e poi c'è da dire anche due cose su un grande giocatore che ha comprato la roma complimenti pizzico di invidia perché a me piace veramente tanto questo giocatore e alle cifre che è stato comprato è un gran bel acquisto io speravo in un acquisto del genere anche da parte del milan perché le cifre non sono esageratamente impossibili perciò secondo me è un gran colpo è un gran colpo della roma va bene ragazzi detto questo parliamo di questo insieme a voi e fatemi prima ricordare una cosa iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti è molto importante attivare la campanella ragazzi perché se vi fa un piacere vedere i miei video sentire sentirmi parlare insomma attivare la campanella non fa altro che facilitarvi le cose no nel senso vi arriva la notifica appena io pubblico un video e poi quando avete voglia e tempo andate sulla notifica cliccate ve lo vedete ve lo guardate invece non attivando la campanella diventa difficile dovete ricordarvi andare a cercare una perdita di tempo secondo me è molto molto importante attivare la campanella fatelo se vi fa piacere nello stesso tempo ragazzi continuate e mi raccomando quello è anche quello molto importante perché aiuta a far crescere il canale mettete un bel like al video mettetelo subito ragazzi poi alla fine del video se voi guardate il video fino alla fine e non vi è piaciuto lo potete levare però mettetelo perché poi dopo magari passa di mente mettete mettete il like bene ragazzi e condividete i miei video con altre persone così ampliamo un po il raggio di visualizzazioni bene detto questo ragazzi partiamo partiamo stasera la supercoppa italiana dai comunque una finale da vedere io sono milanista non sono un corpo estraneo al tifo di queste due squadre però comunque da spettatore insomma è una finale da guardare arrivando alle parole di ieri di chiellini io devo essere sincero non ha tutti i sorti perché il fatto che è vero che questa questa coppa qua questa finale si gioca tra la vincente del campionato e contro la vincente della coppa italia dell'anno prima però non capisco il perché i giocatori debbano pagare in supercoppa italiana in supercoppa italiana che poi non è una competizione è una partita perché è una finale tra due due vincenti di due competizioni perciò perché un giocatore deve pagare la squalifica in quella partita lì oltretutto innanzitutto la squalifica arriva nel campionato di quest'anno e questa partita tutto la fai inerente al campionato dell'anno scorso o eventualmente la coppa italia dell'anno scorso e poi comunque non è la stessa cosa perché in coppa italia se tu vieni ammunito espulso lo paghi nella coppa italia dell'anno dopo mentre non e non nella supercoppa mentre il campionato non c'è mi sembra un po tutto fatto un po così poi effettivamente c'è la finale viene ogni anno viene cambiato il la data nella quale si gioca c'è una volta si gioca dicembre una volta gennaio una volta ad agosto per iniziare l'anno insomma è allora va fortuna in base a quando si gioca se quelle partite prima non succede niente cioè mi sembra un pochettino una cosa un po così sono quelle sono quelle magagnette che uno non se ne rende conto però poi escono fuori e secondo me devo essere sincero poi detto questo lo si sapeva è perché comunque sia quadrato che delitte lo sapevano però secondo me non è giusto secondo me non è giusto perché non c'entra niente non c'entra niente la partita tra juventus roma con quella con la finale de da giocare contro l'inter che hanno meritato l'anno scorso la passata stagione secondo me c'è da rivedere qualcosa in questa cosa qua detto questo speriamo che sarà una bella partita e vedremo vedremo stasera poi ci sentiremo per commentarla arriviamo al milan milan ragazzi domani si gioca praticamente milan genoa e coppa italia genoa un po rimaneggiato ragazzi perciò si possono far rifiattare tanti giocatori vediamo magari far giocare tomori per farlo è vero che non è stato poi fermo tantissimo ieri è rientrato perché si è negativizzato dal covid non è stato fuori perché mi pare che era stato dichiarato positivo il 5 ieri era l'undici insomma sei giorni non penso abbia perso condizioni e quant'altro però sai quando si torna dal covid bisogna sempre un po vedere le cose come vanno dopo domani magari vediamo lo facciamo giocare per vedere un po come la situation spero che facciano mettere un po di minuti sulle gambe a rebic molto probabilmente giocherà daniel maldini penso presumo anche perché ragazzi noi trequartista c'è solo brain diez siccome continua a vedere che si opta anche sui giornali oggi un altro nome nuovo per la difesa qua si continua ci si continua a fossilizzare sul difensore e qua sul trequartista non ne parla mai nessuno boh il trequartista va bene così ne abbiamo uno solo perché maldini ragazzi è vero che può fare il trequartista però è gracile giovane cioè ci vuole un trequartista pronto a sostituire brain diez o eventualmente entrare al posto suo quando non gioca bene insomma io vedo che 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 lì abbiamo una carenza poi detto questo comunque domani penso giocherà daniel maldini visto che non gioca mai titolare sarà una partita abbastanza da giocare con tutto rispetto per genoa però abbastanza semplice genoa è molto rimaneggiato a altro a cui pensare cioè al campionato non penso venga a fare le sfuriate domani però detto questo vedremo vedremo come come sarà rebice c'è da far giocare rebice da fargli mettere un po di minuti sulle gambe perché è entrato comunque una ventina di minuti contro il venezia e non l'ho visto benissimo atleticamente nel senso bene che è entrato però lui ha bisogno ha bisogno di carburare perciò domani è una partita nella quale può mettere minuti sulle gambe e niente detto questo speriamo speriamo in bene vediamo un po come come poi evolverà il tutto giocherà sicuramente tonaglia centrocampo perché è stato ammunito nella gara col venezia e dovrà scontare la squalifica nella partita contro lo spezia in campionato perciò sicuramente giocherà domani per poi star fermo domenica insomma non giochiamo poi con cioè di titolari ce ne saranno giocherà girù perché i bremo c'è la squalifica da scontare l'anno scorso col problema che era successo con lucaco se vi ricordate insomma vedremo vedremo domani che partita sarà l'importante che c'è da giocare la partita perché almeno guardiamo una partita del milan un infrasettimanale visto che di coppe ahimè non ce ne saranno più poi da giocare perciò sfruttiamo la coppa italia che comunque importante è ed è un trofeo ragazzi è un trofeo vedete comunque oggi c'è la super coppa la finale super coppa anche vincerla coppa italia ti porta a portare a casa un trofeo e poi giocartene un altro l'anno dopo perciò è tanta roba siccome sono rimasti quei due coppa italia campionato io spero di riuscire almeno uno dei due a portarlo a casa bene detto questo arriviamo al giocatore della roma ragazzi sergio livella la roma acquistato sergio livella in prestito a un milione e mezzo con diritto di riscatto a 13 perciò un'operazione da 15 milioni neanche tanto alta il ragazzo percepirà 2,5 milioni di euro l'anno perciò secondo me è un'operazione ottima da parte della della roma anche perché io l'ho visto giocare perché il milan quest'anno ha incontrato il porto siano andate ritorno e cazzo ragazzi sergio leone è un fior fior di giocatore a me piace tantissimo detta ai tempi ma a due piedi raffinati ragazzi anche prestanza fisica anche caratteralmente molto tosto cazzo questo è un giocatore a me piace tantissimo ragazzi sono rimasto sono rimasto affascinato da 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 questo giocatore quando ha giocato contro il mila ma anche l'anno scorso quando il porto ha incontrato la juve la juve l'ha sofferto tanto la partita di ritorno quando la juve doveva fare la partita per cercare di poter passare il turno e sergio livella è stata tanta tanta roba a un modo di giocare tiene bene la palla detta i tempi della sua squadra in maniera per me è un grande acquisto un grande acquisto adesso vedremo come dove lo metterà perché sicuramente se tu prendi sergio livella non è che lo prendi giusto per quello gli darei le chiavi del centrocampo veretù secondo me vedrà la panchina anche perché quest'anno non sta facendo un gran che bene mi piaceva molto veretù però se un po quest'anno un po così così o lo sposta in fascia e magari non in fascia lo mette nei tre di centrocampo ma lo sposta magari su un lato e gli fa fare l'incursore un po alla barella avere tu perché a sergio livella gli dai le chiavi del centrocampo e poi dopo sarà lui in mezzo al campo a dettare i tempi e quant'altro non penso che si prenda il cardo lì vera per farlo per farlo stare in panchina vedremo vedremo comunque un gran bel colpo complimenti alla roma e perché mi sarebbe piaciuto al milano un giocatore del genere anche perché poi come cifre ci poteva anche stare vabbè noi abbiamo altro a cui pensare in questo momento perciò bene per la roma bene ragazzi io vi auguro una buona giornata se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere il like che non avete messo prima quando ve l'ho chiesto e di non levarlo se l'avete messo prima ovviamente detto questo ci vediamo stasera poi per commentare la finale di supercoppa italiana vi auguro una buona giornata e come dico sempre io ragazzi ciao